Musica Inaugurato ieri al padiglione 7A della Fiera di Messina, il primo salone espositivo per l'organizzazione del matrimonio per noi sposi. Ad organizzare l'evento che si concluderà domani sera, Mariella Arizzo, wedding planner dalla lunga esperienza che promuove per l'occasione anche la pratica rivista per noi sposi. Una guida completa per chi corona il suo sogno d'amore che consente di avere tutto a portata di mano. Un Bademecum molto utile e ricco di immagini ed informazioni su bomboniere, abiti da sposa, luna di miele, leggi e documenti, auto da cerimonia e tanto altro. Il progetto di Mariella Rizzo, al quale collaborano Antonio Borruto, Valentina Mosca e Matteo Campanella, è ambizioso e ricco di sorprese perché tiene per mano la futura coppia di sposi senza influenzare le loro scelte ma aiutandoli nell'organizzazione impeccabile della cerimonia. Dalle 10 alle 13 e dalle 15 e 30 alle 21 e 30, una ricca vetrina di aziende ricercate di Messina e provincia propone in fiera i suoi prodotti offrendo un ventaglio di opportunità per ogni gusto, personalizzando l'offerta in base alla domanda e dai desideri di ogni coppia. Da per noi sposi di Mariella Rizzo, gli oggetti più preziosi per la casa, per la tavola, il servizio fotografico, le partecipazioni, i viaggi, le location più esclusive, i fiori che personalizzano ogni addobbo e gli abiti da sposa e da sposo. Le scelte più complesse perché tutto sia veramente perfetto. Le coppie di futuri sposi intervenute inoltre potranno partecipare al sorteggio di una splendida crociera offerta dall'organizzazione di Per Noi Sposi, in collaborazione con Mondo Vacanze. L'estrazione avverrà domani sera nel corso della sfilata di abiti da sposa di Bertia Mode, prevista alle 21 nel padiglione 7B della Fiera. In Passarella, 60 capi delle più note Grif e della Sartoria Bertia, perché ogni sposa trovi il suo abito. Un'opportunità da non lasciarsi sfuggire per coronare al meglio il tuo sogno d'amore. Per Noi Sposi, fino a domani in fiera.